Benvenuti amici di Freshman & Sound, siamo qui a Palm Beach al mitico Swedish caffè di Jaws perché stiamo per andare a visitare il Palm Beach York Show, uno degli York Show più importanti del South Florida, è una settimana importante qui a Miami, abbiamo già avuto il New York Week dove ovviamente abbiamo impazzato per tutto il giovedì e venerdì e adesso nel weekend vogliamo qualcosa di più rilassante e quindi vi porteremo con noi allo York Show. Siamo qui al Bod Show di Palm Beach finalmente e adesso vi porteremo a vedere tutti questi mega yacht e barche che fanno parte della cultura un po' di Palm Beach, seguiteci! Amici di Non è una radio per vecchi, siamo sempre a Palm Beach allo York Show e questo è Riva Venere. Pazzesco! Probabilmente siamo intorno, direi ai 20 milioni di euro, beh perché no, perché non usarlo proprio qui intorno per andare a visitare magari da qui a Miami e farsi uno sparo. Stiamo cercando una barca da pesca in Solida, questa è proprio una delle tipiche situazioni, un po' piccolina per un paio di canne che possiamo andare a pescare. Pazzesco! 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 Beh, Ad Astra è assolutamente uno yacht completamente customizzato, tutto in carbonio, quello che noi chiamiamo un explorer di lunga vita. E in circa sette anni abbiamo fatto 55 mila miglia nautiche, quindi circa due volte il giro della Terra. E ora non ci rimane che chiedere il prezzo. Di che prezzo parliamo, capitano? Ah, beh, è semplice! 50 milioni di dollari! L'emozione di essere nella cabina di pilotaggio da un yacht di 50 milioni di dollari è incredibile. E in fondo il capitano Grant ci rassicura che non è poi così difficile navigare con questo yacht. Basta impostare la rotta, sperarei che il tempo sia buono e con un pieno di benzina si arriva in Grecia. Salutiamo Ad Astra, il capitano Grant e l'International Palm Beach Boat Show. Grazie per essere stati con noi con questo primo episodio di Fashion & Sound America. A presto! Ciao! Ciao!